La Commissione Antimafia sbarca all'Ocri dopo la tappa di Reggio Calabria. Ieri è stata la volta del centro del Regino, teatro di una preoccupante escalation criminale. La Presidente Rosi Bindi, dopo le audizioni con i sindaci, ha espresso solidarietà al sottosegretario Minniti, criticando la posizione assunta dalla diocesi di Locri Gerace. Il decreto scuro tra tagli e proteste. Lunedì marcia silenziosa a Vibo Valencia, dei medici ribelli contro il piano di ridimensionamento voluto dal commissario al piano di rientro sanitario, mentre a Soveria Mannelli, per effetto del decreto, chiude il reparto di pediatria. Pediatri calabresi in missione a Lampedusa andranno a curare i bambini sbarcati nelle scorse ore sull'isola, a guidarli nella missione di soccorso e assistenza, il primario del reparto pediatrico dell'ospedale pugliese di Catanzaro. Budimir trascina il crotone verso la Serie A. Ancora una vittoria per i pitagorici, che stendono il lanciano grazie a un gol sul rigore del bomber, che in settimana ha firmato il rinnovo. La A è sempre più vicina al crotone. Ora sono sufficienti 10 punti per la promozione matematica. Telespettatori di La C, buongiorno e buon sabato. Dunque questi i principali argomenti del nostro telegiornale. Partiamo subito dalla visita della commissione anti-ndrangheta, presieduta da Rosi Bindi, che dopo la tappa di Reggio Calabri, è stata ieri a Locri, teatro di una preoccupante escalation criminale. L'ex ministro ha espresso solidarietà al sottosegretario Minniti, criticando la posizione assunta dalla diocesi di Locri-Gerace. È terminata in tarda serata la visita della commissione parlamentare antimafia, presieduta da Rosi Bindi, che dopo la tappa di Reggio Calabri, ha raggiunto la vicina Locri, teatro negli ultimi mesi, di una preoccupante escalation criminale nei confronti di amministratori pubblici. Nella Locri abbiamo la più alta concentrazione di comuni sciolti per mafia, che ha spiegato la Bindi in conferenza stampa. Qui la politica è ancora troppo influenzabile, disponibile nei confronti della potenza dell'andrangheta. Chiederemo al governo un maggiore impegno per il potenziamento delle sedi giudiziarie in termini di uomini, mezzi e strutture. Dalla commissione antimafia solidarietà al sottosegretario Marco Minniti, la manifestazione organizzata a platine i giorni scorsi è stata un'inaccettabile strumentalizzazione delle parole del sottosegretario. Ha tuonato l'ex ministro, ci ha sorpreso e amareggiato che la Chiesa non sia stata capace di servire la verità, ma abbia secondato la manifestazione, prestando la sala parrocchiale. Nella caserma dei carabinieri di Locri sono stati auditi il sindaco di Gioiosa Ionica, Salvatore Fuda, il presidente dell'Asso Comuni della Locri, De Giorgio Imperitura, i commissari prefettizi insediati nei comuni di Africo e Bovalino, il presidente del Tribunale di Locri, Rodolfo Palermo, e i magistrati Nicola Gratteri e Federico Caffiero De Rao. La commissione si è inoltre recata a Gerace, dove il sindaco Giuseppe Varacalli ha rinnovato l'invito ad un interesse sull'ospedale, costruito da diversi anni e mai entrato in funzione. Da Reggio Calabria per l'AC News 24. La sanità, crescono le adessioni in vista della marcia silenziosa che lunedì si snoderà lungo le vie cittadine di Vibo Valencia. In testa al corteo i medici dimissionari dello Iazzolino. In piazza per difendere i diritti dei cittadini, dal diritto alla salute al diritto all'istruzione e al lavoro. In piazza per restituire dignità a una provincia che primeggia solo per disoccupazione e criminalità. E' questo il senso della marcia silenziosa che lunedì mattina si snoderà lungo le vie cittadine di Vibo Valencia. In testa al corteo ci saranno i promotori della manifestazione, i medici dimissionari dello Iazzolino. Loro, che qualche settimana fa, in netta contrapposizione con il decreto scura, hanno deciso di rassegnare le dimissioni nelle mani del prefetto e del ministro alla salute. Un gesto provocatorio per denunciare le gravi carenze d'organico e di posti letto che impediscono ai medici di poter svolgere il proprio dovere. E lunedì mattina in piazza scenderanno i rappresentanti delle varie associazioni del territorio, la politica locale e regionale, ordini professionali, confindustria, sindacati e studenti. Anche la CISAL marcerà accanto ai medici ribelli. Lo ha annunciato lo stesso segretario nazionale Franco Cavallaro che in una nota annuncia la totale contrarietà alla proposta di riorganizzazione della rete ospedaliera che il direttore generale dell'ASP di Vibo ha presentato al commissario regionale per l'emergenza sanitaria. Anche dalla vicina Tropea hanno dato il loro sostegno alla manifestazione di lunedì, una marcia silenziosa che precede di qualche giorno l'altra mobilitazione indetta dai comitati no allo smantellamento di Tropea e riprendiamoci la dignità in programma venerdì 8 aprile. Cristina Iannuzzi per la CNews 24. Ma sentiamo le ragioni dei medici ribelli attraverso le parole del primario di neuroscienza dello Iazzolino di Vibo, Domenico Consoli, ospite dei fatti in diretta. E' stato opportuno questo decreto Trent è stato opportuno perché ha innescato un processo che speriamo di saper governare bene ma che va al di là della sanità su cui la società civile ha fatto massa critica in questa città ed è una condizione che non si verificava io non ricordo mai è successa una situazione di questo tipo. la società, tanti pezzi di società hanno fatto sintesi e mediazioni tra diverse sensibilità dal mondo del lavoro al mondo delle professioni a confindustria, alla chiesa con un nuovo umanesimo sociale alle organizzazioni sindacali noi speriamo pure a tutti i sindaci con un aumento istituzionale collante tra la società civile e lo Stato abbiamo risvegliato la società civile speriamo di adeguarla alle regole e che inizi una nuova primavera questo è quello che sta succedendo a Vibo lunedì 4 abbiamo organizzato una giornata che è la giornata dei diritti dei diritti negati partendo dalla sanità Vibo trova una sua nuova identità è una nuova primavera io ringrazio Scura perché ci ha dato questa opportunità e restiamo in tema di sanità chiude il reparto di pediatria dell'ospedale di Soveria Mannelli con l'applicazione del decreto Scura da ieri il reparto è un ambulatorio i dettagli in questo servizio cade sotto la mannaia del commissario d'acta scura anche il reparto di pediatria dell'ospedale di Soveria Mannelli l'ultimo giorno di attività è stato il 31 marzo dal primo aprile il reparto è svuotato delle sue funzioni e ridotto ad un ambulatorio a darne notizie il comitato per ospedale del Reventino insieme al Comocal danni impegnati in una serrata lotta per evitare il depauperamento progressivo del presidio montano ora all'ennesimo taglio pediatria diventa un ambulatorio diurno senza osservazione prolungata e con la presenza di un medico di mattina e di personale infermieristico nel pomeriggio così dicono il decreto 9 prima e quello 30 dopo una severa razionalizzazione che potrebbe avere molte difficoltà a combinarsi con la realtà e le necessità quotidiane dei piccoli pazienti ecco perché il direttore generale dell'ASPO Giuseppe Perri ha tramite un atto aziendale cercato di rimodulare la questione in modo da renderla quanto più incisiva possibile ma resta il grado di allerta il desiderio di potere almeno nel caso dei bambini evitare di doversi spostare in altre strutture specie tenendo conto della morfologia del territorio della distanza degli ospedali più vicini e del fatto che per gran parte dell'inverno le strade sono imbiancate dalla neve Tiziana Bagnato per la CNews 24 Ritorniamo a Vivo Valencia per parlare di ambiente Sicuramente le voragini che si sono verificate a Vivo lo scenario di reati ambientali legati allo sversamento sul suolo di scarichi fognari e il clamoroso sequestro preventivo della rete fognante disposto dalla procura saranno all'ordine del giorno dei lavori della Commissione Ambiente del Consiglio regionale convocata per mercoledì prossimo 6 aprile e quanto annuncia il consigliere regionale Vincenzo Pasqua che ha chiesto specifiche audizioni per far luce sui fattori di rischio idrogeologico del Vibonese due morti sul lavoro nel Catanzarese un'anziana trovata senza vita vicino alla propria abitazione e diversi genitori denunciati nel Cosentino per non avere mandato i figli a scuola questi i principali fatti di cronaca della giornata grave incidente sul lavoro a San Mangodacuino nel Catanzarese in località Pruno a perdere la vita due persone padre e figlio i due stavano lavorando nell'azienda di famiglia che si occupa di allevamento di suini quando per cause ancora sconosciute sono caduti in una vasca di decantazione dei liquami con ogni probabilità hanno perso conoscenza a causa delle esalazioni di gas sul posto sono intervenuti oltre al medico legale i carabinieri della compagnia di Soveria Mannelli guidati dal capitano Domenico De Biasio che hanno avviato le indagini per far luce sulle cause della morte il corpo di un'anziana donna di 83 anni è stato ritrovato nelle campagne di Sellia Marina in provincia di Catanzaro e dai primi accertamenti eseguiti dal medico legale il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali l'anziana era sparita da casa nel pomeriggio di venerdì 1 aprile ed erano stati gli stessi familiari ad avvertire i carabinieri di Sellia ed i vigili del fuoco del comando di Catanzaro che attivatisi immediatamente nel giro di alcune ore sono riuscite a trovarla purtroppo già cadavere a poche centinaia di metri dalla sua abitazione otto genitori di cui sei rumeni sono stati denunciati dai carabinieri di Cosenza alla procura della Repubblica per inosservanza dell'obbligo nei confronti dei figli minori i controlli e le verifiche sono stati eseguiti dai militari in alcuni istituti del capoluogo a partire dal mese di settembre del 2015 appurando come i genitori si sarebbero disinteressati completamente degli impegni scolastici dei loro figli nonostante numerose sollecitazioni da parte della direzione didattica i ragazzi hanno tutti tra i 12 e i 16 anni Loredana Colloca per l'AC News 24 Apriamo la pagina della politica le elezioni cosentine riservano colpi di scena il PD ha escluso dal partito Giuseppe Mazzucca prima PSA il gesto è stato considerato un dispettuccio elettorale dal candidato a sindaco Enzo Paolini che ha organizzato una conferenza stampa per parlare appunto del caso politico Giuseppe Mazzucca capogruppo del partito socialista europeo viene escluso dalle fila del PD è arrivata una mail anonima che mi ha cancellato dall'anagrafe 2015 del partito democratico così afferma l'ex consigliere regionale pronto a pagare nuovamente la quota di iscrizione per la tessera al partito di Renzi in merito all'esclusione ribadisce che questo provvedimento destra dei sospetti in vista delle amministrative nella città di Cosenza il PS è nato proprio in funzione al rapporto col partito democratico quindi non è che io ho mai sospeso la tessera del partito democratico io sono stato iscritto al PD dal 2007 al 2016 io non sono candidato non mi candido ancora non ci sono candidature non ho espresso nessuna preferenza di voto quindi è qualcosa che hanno voluto fare per un dispetto non lo so un autogol non è accensione di campagna elettorale su piccole questioni ma è una questione di etica politica a intervenire in conferenza stampa sul caso Mazzuca l'avvocato candidato a sindaco a Palazzo dei Bruzzi Enzo Paolini che definisce l'episodio una schermaglia elettorale un vero e proprio dispettuccio i dirigenti del PD hanno sbagliato il comportamento non gli elettori hanno sbagliato tempi hanno sbagliato comportamenti hanno sbagliato procedure hanno sbagliato tutto ma perché probabilmente lo fanno perché nella loro dimensione culturale esiste solo questa procedura Rossana Muraca per la CNews 24 impossibile proseguire sullo stesso percorso politico così scrivono in una nota i consiglieri della giunta di Serra San Bruno che in massa hanno annunciato le dimissioni sostegno al terzo polo alle prossime amministrative e rottura definitiva con il suo partito così Bruno Rosi sindaco di Serra San Bruno raccontava pochi giorni fa in un'intervista il suo scivolamento fuori da Forza Italia la reazione non si è fatta attendere per mezzo di una nota primo primatario l'ex compagno di partito Nazareno Salerno i consiglieri della giunta hanno rassegnato le dimissioni Gerardo Bertucci Adriano Tassone Cosimo Polito Vincenzo De Caria e Giuseppe De Raffaele hanno annunciato il ritiro del proprio sostegno al primo cittadino perché scrivono è venuto meno agli impegni presi pubblicamente su importanti questioni che interessano il comune e così per il sindaco Rosi la legislatura sembra destinata a finire prima del previsto ad ogni modo lui stesso ha già chiarito che non correrà alle prossime comunali ma darà appoggio a chi glielo ha chiesto delusi e reietti del PD e altri transfughi di partiti ormai in dissolvenza i tempi dell'abbraccio cameratesco tra Rosi e Salerno sul palco allestito in occasione dell'elezione a sindaco della città della Gertosa è destinato a finire nel cassetto dei ricordi le ultime righe del comunicato stampa dei dimissionari non lasciano margini di recupero essendo Rosi ufficialmente protagonista della costituzione di una lista avversaria scrivono riteniamo impossibile proseguire sullo stesso percorso politico Loredana colloca per la Cineus 24 una delegazione di pediatri calabresi è in partenza per Lampedusa andranno a curare i bambini sbarcati nelle scorse ore sull'isola a guidarli nella missione di soccorso e assistenza nel primario del reparto pediatrico dell'ospedale pugliese di Catanzaro partiranno lunedì prossimo i medici pediatri dell'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio di Catanzaro per raggiungere Lampedusa dove assisteranno i bambini migranti che si trovano già sull'isola e tutti quelli che vi arriveranno durante la settimana si tratta di bimbi la cui vita è messa a serio rischio da condizioni atmosferiche igienico-sanitarie non adeguate pediatri in movimento questo è il nome del progetto presentato presso la cittadella regionale dai promotori Giuseppe Gullotta presidente della Fondazione Pediatria e Famiglia e della Federazione Nazionale Pediatri e Giuseppe Raio la presidente dell'AXA-ST Onlus pronto per la missione la prima equip sarà composta dal sottoscritto dal dottore Domenico Salerno che è il direttore della chirurgia pediatrica dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio e da una infermiera pediatrica la signora Sara Iacubbi che oltretutto è di madrelingua e quindi ci sarà molto utile nell'effettuare quella sorta di mediazione culturale che è fondamentale con queste popolazioni grazie a questa iniziativa evidenziato il governatore Oliverio scriveremo un'altra bella pagina targata Calabria in un momento in cui la sanità vive una situazione difficile c'è anche quella parte sana che nelle difficoltà non perde occasione per praticare accoglienza e soccorso è un'ulteriore dimostrazione di una Calabria che accoglie e di una Calabria che soccorre e di una Calabria solidale inevitabile infine il riferimento a Riace comune calabrese simbolo di accoglienza e integrazione che secondo Oliverio oggi più che mai deve essere preso da esempio Catanzaro per la C News 24 Sensibilizzare i giovani alla lotta contro le mafie è il tema del dibattito svoltosi all'Università della Calabria ed organizzato dal Movimento Calabrese giornalisti d'azione andiamo a vedere i dettagli in questo servizio Qui l'andrangheta non entra è lo slogan del manifesto esposto nell'aula solano dell'Università della Calabria alla presenza di numerosi studenti un messaggio forte che parte dalle aule universitarie con l'intento di sensibilizzare i più giovani a combattere i fenomeni culturali distorti e malsani della nostra terra l'iniziativa Voci contro le mafie nasce dall'idea del movimento della stampa calabrese giornalisti d'azione il mestiere del giornalista che si fonda sul concetto di libertà e obiettività può essere utile a combattere il malaffare Il ruolo dei giornalisti nella lotta alle mafie è un ruolo fondamentale importantissimo perché i giornalisti è capitato la storia lo insegna dalle inchieste giornalistiche la magistratura ha mosso i passi per poi portare avanti le inchieste giudiziarie Comunicare per sensibilizzare alla base del sistema educativo e formativo di un'istituzione come l'Università della Calabria Siamo una delle massime istituzioni culturali di questa regione lavoriamo con un prodotto che sono i nostri studenti che sono 20 anni hanno tutti 20 anni 22-23 quindi sono un prodotto che sarà nel futuro di questa regione abbiamo il dovere di far presente quali sono i problemi di questa regione soprattutto quelli legati appunto alla delinquenza organizzata Al centro dell'appuntamento tra i personaggi presenti intervistati dai giornalisti delle testate ed emittenti calabresi Gioacchino Criaco autore di Anime Nere un libro che racconta la storia di un'amicizia estrema maturata negli ambienti della Locride Io penso che alla fine ci sia qualcosa di estremamente utile perché spiega soprattutto ai nostri ragazzi cosa succede facendo certe scelte e noi pensiamo che il mondo non conosca la pericolosità dell'organizzazione criminale mentre spesso questa pericolosità non è conosciuta dai nostri ragazzi nel nostro territorio Rossana Muraka per la CNews 24 Lo chiamano il camminatore della pace ora il congolese John Palizza che gira il mondo a piedi per raccontare il dramma della sua terra ha fatto tappa alla mezzia terme vediamo com'è andata Lo chiamano The Peace Walking Man il camminatore della pace lunghe lunghissime le sue marce a piedi con qualunque intemperie per sensibilizzare su ciò che accade nel suo paese di origine il Congo John Palizza 47 anni ingegnere informatico ha fatto tappa alla mezzia terme in un incontro organizzato dal sistema bibliotecario rametino nella parrocchia del Rosario Fuggito al dramma della guerra laureatosi a Parma in ingegneria informatica John ha lasciato tutto ed iniziato a marciare per la pace e i diritti umani ha camminato da Reggio Emilia a Reggio Calabria e poi ancora da Reggio Emilia fino a Delsinski ha incontrato capi di Stato è stato ricevuto da ministri e semplici cittadini desiderosi di conoscere la sua storia ma anche quelle verità scomode che vuole veicolare come ad esempio il monopolio delle multinazionali sulle fonti energetiche non rinnovabili e poi il caso del Coltan un minerale da cui viene estratto il tantalio utilizzato per la fabbricazione degli smartphone l'80% di questo viene preso nelle miniere congolesi dove ad estrarlo sono bambini che spesso soccombono la sua radioattività ecco perché John chiede di avviare il riciclo e il riuso del Coltan e che si sappia il dramma che il popolo congolese sta vivendo vessato da paesi che si ergono a difensori dei diritti umani salvo poi far finta di non sapere cosa avviene nelle miniere africane Tiziana Bagnato per la C News 24 Siamo allo sport ancora una vittoria per i pitagorici che stendono il lanciano grazie a un gol su rigore del bomber che in settimana ha firmato il rinnovo la A è sempre più vicina al crotone ora sono sufficienti 10 punti per la promozione matematica Continua la marcia trionfale degli uomini di Juric che regolano il lanciano grazie a un rigore e rilanciano la corsa verso la Serie A per una promozione storica ormai sempre più vicina la tensione del finale di stagione si fa sentire sui giovani Rosso Bluor che al rush finale fa sentire al gruppo il profumo di Serie A di un evento storico per la città e per la regione così in esce una partita molto tattica con Budimir e compagnia impegnati a controllare il lanciano nel tentativo di affondare al momento giusto controllando il gioco ma a ritmi molto blandi la svolta arriva all'inizio del secondo tempo al quinto minuto quando Budimir entra in area e viene steso da regione lo stesso bomber fresco di rinnovo con il crotone nonostante il corteggiamento delle grandi italiane ed europee a trasformare il penalty e a portare in vantaggio il rosso blu vantaggio che il crotone riuscirà a mantenere leggevolmente fino alla fine del match controllato senza troppi affanni l'ennesima dimostrazione di forza per i ragazzi di Juric che con sicurezza e maturità portano a casa i tre punti e si avvicinano sempre di più alla serie A per la promozione matematica nella massima serie mancano ora solo dieci punti da crotone per la cnews24 è tutto grazie per aver preferito la nostra informazione e buon proseguimento visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizie per aver guardato il nostro canale per aver guardato il nostro canale Grazie a tutti.